Tra poco, unisciti a case Oliver ed opera anche tu nell'unico pronto soccorso per supereroi. Mighty Mad, pronto soccorso eroi a Disney's Team. Nella nuova serie Wonder, nessuna avventura è troppo piccola. Fonda l'arco! Prezzo! Potevo restare ucciso! Nessun pianeta è troppo strano. La gioia dilaga! E nessuna creatura è troppo mite. È proprio una cosa dell'altro mondo! Vieniti pronto! Per la nuova serie Wonder! Ehi, vorresti la rinuncita? Dal lunedì al venerdì alle 14.30 a Disney's Team.